Santa Lucia, Catris, la capitale, Santa Lucia, Castris, Santa Lucia, il mio vivo Santa Lucia, il mercato centrale di Castris, e avventuro nel mercato centrale di Castris. I colori. La musica maetta qui a Catris, capitale di Santa Lucia. Casino turistico qua a Rhythmie Bay. Il bellissimo porto di Rhythmie Bay. Pescano qui a Rhythmie Bay. Pescano di bestia. C'è l'aereo di un'alzi in questa spiaggia più importante di Santa Lucia. Al tramonto ormai. Piena di barche in questa fantastica baia. Bello questo colpo d'occhio. Sono a Rosile, a Città del Veno di Sera, cioè stasera. Come spacca il tramonto qui a Santa Lucia. Tramonto indimenticabile. Tramonto indimenticabile. Santa Lucia in questo caso. Piove di bestia. Grossi Lett. La chiesa di Grossi Lett. Piove di bestia qua. Tassi di Santa Lucia. Piove di bestia. Il mercato del sabato. Sotto la pioggia però. Sono a Ceneris. Centro Lucia. Piove nettamente anche a Ceneris. La spiaggia di Ceneris. Ceneris. Bellissime parche dei pescatori. Su vi è la pella di Santa Lucia. Cosa in mezzo alle montagne. Il piton alle mie spalle. Fatimoglio dell'umanità. Il grosso piton alle mie spalle. È il simbolo di Santa Lucia. Il pesce. La magia di Sofriere. Sofriere. La perla di Santa Lucia. Era impossibile. Sofriere. Il lungo mare. I colori. La magia di Sofriere. La piove. La piove. La piove. La piove. La chiesa. Sofriere con le sue case coloniali. Dall'aspetto un po' trascurato. Voci di Sofriere. A Ciseul. Casette spettacolari. La chiesa di Ciseul. Casette spettacolari. Santa Lucia. La chiesa. Più po', la seconda città di Santa Lucia. La coniadi. Un po' abbandonata questa città. Il cappolo del pesce. Sono arrivato finalmente al mare. Dove è quello dei Caraibi. Contra quello... Tanti città. Viu Forte. Le capprette di Viu Forte. In città. In pieno centro. La sopolla chiede. Eccola. Edifici in legno stupendi. Mi trovo nel villaggio di Anseverei. Una bellissima spiaggia. Passaggio indiffurbato sul l'isolo di Anseverei. Un bellissimo villaggio di pescatori. La baia con le barche. Villaggi square. Case stupende di Rocca. Le bellissime cosette del legno di Anseverei. Santa Lucia. Campo da calcio in mezzo alle montagne. Il Géon National Park. Sventola la bandiera di Santa Lucia. Cammino all'interno del parco. In cima, Fort Rodney Hill. Eccolo. Sono a Fort Rodney Hill. Microsolo in vetta. Scorsi incredibili. Di Pigeon Park. E poi ancora il panorama spazio. Su gran parte dell'isola di Santa Lucia. Vedete? Dove dormo io là. Grossa Islet. La parte più turistica dell'isola di Santa Lucia. E poi la baia. E quindi... Non mi resta che dire... Sembra impossibile. Rodney Hill. Santa Lucia. Ultimi scorsi stupendi da qua sopra. Ultimo saluto a Rodney Hill. Santa Lucia. Mamma mia come in piedi. Ultimo tratto a salire. Adesso devo scendere. Ero lassù prima. Sono sulla spiaggia del parco. Eccolo là. Lo vedo prima. È bella questa baia. Le ex cortificazioni inglesi. Che ha un passo al tramonto. Come spacca qua il mare. Panorami eccezionali. Panorami eccezionali della baia. La cattedrale di Caspis. La messa della domenica mattina. La messa della domenica mattina. Il piantone gigantesco. Le casette colorate della capitale. Biblioteca centrale. Le montagne adiacenti a Castri. Eccole. Tra le deserte la domenica mattina. Bello questo edificio colorato. Blu con la nulla. La baia di Castris. La bellissima baia di Castris. Quindi un saluto a Castris. La pista dell'aeroporto di Castris. Il mio volo per le Barbados. La costa orientale di Santa Lucia.